Amici di Vini in Vino, ciao! Siamo qui con Filippo e andiamo a degustare un meraviglioso Franciacord Vi versiamo direttamente perché vale la pena vedere un po' questo vino che spumeggia nel bicchiere È sempre bello Allora, direi che siamo a degustare una Franciacord dal nome Vignenote, una Saten della Franciacord del 2009 Con un Chardonnay al 100%, una rarità da 13 gradi signori Andiamo a conoscerlo Filippo Bonicina quando l'abbiamo versata abbiamo visto che è molto molto bella, una spuma raffinata Ha un colore bellissimo, il giallo dorato dello Chardonnay Ricordiamo che il Saten deve essere al 100% Chardonnay, quindi già di base è molto più morbido E una pressione inferiore, quindi siamo al massimo 4 atmosfere, 4 atmosfere e mezzo Vino più delicato Wow, che naso Eh qui si chiama naso ricco, pieno di lieviti, direi un naso molto piacevole con panani sottofondo Con questa, al naso senti la burrosità di questo vino Sì, è una cosa stupenda, è una cosa stupenda Fa venire voglia di bello solo al naso In bocche secco, molto delicato, come vedevamo dalle bollicine Il setato è appropriato per questo vino, sentiamo questa morbidezza e questa leggiadria È un vino molto molto elegante Molto elegante La burrocina si sente in bocca, è ancora viva, tonica, quindi ti da, ti sgrassa È una bolla che ti invita a bere, è molto molto interessante Ha una struttura anche questo vino qui, perché ricordiamo che è una buona burrocina Devi avere di base, deve essere un ottimo vino, perché altrimenti le cose vanno sempre di pari passo E poi hai detto bene, hai detto bene quando hai parlato di una bolla tonica Sì, 6-8 gradi la temperatura di servizio, mi raccomando le bolle sempre così E come abbinamento, vedremo cosa dirà il nostro amico Valle Mazzola Ma intanto, direi una bella lasagnetta Ah, mi hai detto nel pensiero, grande filo Una lasagnetta bianca di, mmm, allo scorfano Quindi, direi proprio una lasagnetta bianca al pesce, quindi scorfano E aggiungiamoci pure, degustatelo su un bel ristorante che arriva al mare Vista mare con la vostra amorosa fidanzata, moglie Esatto Ma se voi volete Comunque sicuramente in compagnia di Vignanotte Esatto Amici, ricordate di andare su madeinvino.com E di metterci alla prova acquistando due mesi, un mese, quello che volete Un paio di bottiglie per questo mese con Made in Vino Salute Grazie a tutti, cin Ciao 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 Ciao